Un trolley lasciato incustodito, un monumento sensibile ed ecco che le nostre paure più recondite si risvegliano. Un altro episodio lo scorso sabato sera verso le 18.15 quando di fronte all'arcovolo 56 dell'arena le attenzioni di tutti si sono focalizzati su di un pacco sospetto abbandonato sotto la scalinata di ferro. In 4.48 la zona del lato San Nicolò è stata così evacuata, gli esercizi commerciali sono stati chiusi e la tensione ha avvolto soprattutto i più sensibili. Tutti comunque stavano lì a guardare mentre gli artificieri facevano brillare il trolley. Poco accade, era solo un bagaglio a mano lasciato incautamente da qualche turista in una zona considerata sensibile. La paura di attacchi terroristici quindi è sempre dietro all'angolo e spesso, per fortuna, si tratta di un sentimento non corrisposto nella realtà. Io mi sento con la paura addosso di girare tutte le città perché questa è una guerra che non si può combattere. Basta un minimo, un pacco, una busta e stai con la paura. Beh la vivi questa paura, la vivi per forza con tutto quello che vedi in giro. Soprattutto i monumenti sensibili secondo lei o ovunque? Io penso ovunque perché dove ci sia un po' di gente se c'è qualche pazzo ne approfitta. Quindi è normale spaventarsi per un trolley che magari contiene anche solo? Io penso proprio di sì, sai. Non ha paura? No. Cioè se vedesse un trolley sospetto per terra abbandonato non avrebbe paura? Eh no, avviso, se vedo qualcosa di sospetto avviso la pubblica sicurezza e basta.